non taglierai di una nanna dai a peppa fa la nanna? si anche poco io? poi la nanna, dove è nanna? poi? Giorgio dov'è Giorgio? ce l'hai in mano mi sa nanna? sei esaurita un anno? si un anno 6 wow Giorgio bravo bravo peppa bravo peppa nanna tre ecco poi chi la fa nanna? 6 patto 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 nanna matto come si chiama quello? fa nanna fa nanna poi? fa din don fa din don Che manualità, Nenni. Ale, Nanna, Peter, mamma, Peter, mamma, grazie a tutti.